Ritura 6 mondiali di nuoto i diciassettesimi per la precisione e hai da poco terminato il riscaldamento per la finale del duo misto di nuoto sincronizzato. La semifinale è andata bene oltre le aspettative e hai migliorato di tre punti il tuo personale. Sei eventualmente secondo ma sai che con mezzo punto in più potresti addirittura vincere? Certo che con un punto in meno sei fuori dal podio. Ai mondiali di nuoto si gareggia tutti insieme nuoto di fondo, sincronizzato e tuffi durante la prima settimana e capita spessissimo di sentire dire di altri atleti che fanno cose incredibili che battono record, che vincono medaglie una medaglia ai campionati del mondo. L'idea ti dà ancora la testa eppure tu due anni prima ne avevi già vinte due di medaglie. Ero il 2015 ed ero ai primi campionati del mondo nei quali agli uomini era concesso di partecipare nel nuoto sincronizzato. Avevi 19 anni all'epoca e ti eri ritrovato in un mondo da sogno a competere contro colui che ti aveva spinto a iniziare questo sport il Michael Jordan del nuoto sincronizzato Bill May Bill che ha nuotato dall'89 al 2004 senza mai aver avuto l'opportunità di competere a gare internazionali Bill che nel 2004 si è iscritto alle Olimpiadi di Atene solo per sentirsi dire che non avrebbe potuto partecipare in virtù del suo essere uomo si era dovuto arrendere al suo sport che insisteva a considerarsi come unicamente femminile. Io ho iniziato nel 2002 avevo sei anni e credevo davvero in quello che faceva quel ragazzo americano credevo davvero che gli uomini centrassero qualcosa con un nuoto sincronizzato e lo avrei dimostrato a tutti insieme ai miei compagni di squadra i bambini hanno una mentalità molto più aperta di quella degli adulti gli altri ragazzi erano curiosi di questo mio sport mi facevano domande volevano saperne di più gli allenatori delle altre società mi supportavano in questa mia stranezza però le cose cambieranno rapidamente crescendo gli altri ragazzi iniziarono a indicarmi a ridere di me a chiamarmi sincrofrocio gli altri allenatori iniziarono a storicere il naso vedendomi inutare a fare commenti sul fatto che un uomo non c'entrasse davvero nulla con un nuoto sincronizzato che quello non era al mio posto io non lo volevo dare a vedere però faceva male faceva male soprattutto non capire perché mi stessero dando contro faceva male essere rimasto l'unico di quei sette ragazzi che nuotavano nella mia società e non avere più quegli appigli a cui aggrapparmi faceva male quando la mia allenatrice chiedeva a un giudice come mai una valutazione tanto bassa in un dato elemento e sentire la risposta cioè che in quanto uomo ero più forte e quindi era tutto più facile e quindi non meritavo di essere valutato come le altre atlete eppure io non mi sentivo più forte non mi sentivo più forte non mi sembrava più facile e quella certezza che avevo dentro di me cioè che un uomo centrasse qualcosa nel mondo del nuoto sincronizzato la sentivo spengersi giorno dopo giorno avevo 15 anni quando decisi che non me ne sarei andato così che quantomeno ci avrei provato cambiare società ritrovare delle compagne di squadra ambiziose come l'avevo stato io da bambino è stata la sliding door che mi ha cambiato la vita ho ricominciato a migliorare ho ricominciato ad avere fiducia in me stesso e nelle persone e nel fatto che prima o poi il mio sport sarebbe diventato davvero inclusivo a 18 anni insieme a quelle compagne arrivò la mia prima e unica medaglia ai campionati giovanili una medaglia di bronzo alle ultime gare della mia vita le ultime perché a 18 anni devi iniziare a pensare al futuro a cosa studierai a quale lavoro vuoi ambire e quel progetto beh ce l'avevo messa tutta ma non era bastato sarei dovuto entrare in nazionale molto tempo prima ambire un posto in fiamme oro per potermi allenare le 8 ore al giorno necessarie a provare ad essere tra i migliori ci avevo messo il massimo dell'impegno ma non era bastato e finiva tutto lì con una medaglia di bronzo bellissima ma dal sapore un po' amaro ma ecco che arriva una donna so per sentito dire che fa parte della commissione tecnica internazionale mi si avvicina mi fa i complimenti e mi dice Giorgio continuo a nuotare almeno fino a dicembre perché potrebbero esserci delle grandi novità che cosa significa vedere una speranza ormai vana rinascere davanti ai tuoi occhi che cosa significa quando a dicembre ti dicono che la federazione internazionale di nuoto ha deciso che ai prossimi mondiali gli uomini potranno partecipare nel sincronizzato e tu tempo 8 mesi sarai lì con le due atlete più forti d'Italia a competere contro i tuoi idoli stavo ripensando a tutto questo siamo ancora lì ai 17esimi campionati del mondo e mancano 20 minuti alla mia esibizione agli storici mondiali del 2015 arrivarono due medaglie di bronzo e tra mezz'oretta potrei aver già migliorato quel risultato una medaglia ad argento ai mondiali di nuoto meglio non pensarci dovrei fare come sta facendo la mia compagna ripassare l'esercizio magari farlo solo mentalmente sia mai che mi veda sbagliare qualche movimento o peggio che lo veda la mia allenatrice 10 minuti c'è la musica di Bill in sottofondo è ancora là 13 anni dopo aver mollato è ancora lì che compede da tutto se stesso perché adesso può e questa era l'unica cosa che voleva fare Bill ci stava dietro in semifinale ma in quel momento penso che non riuscirei a essere così triste se dovesse superarci in finale 5 minuti vedo le nostre compagne scendere dagli spalti qualcuna corre e so già che ci salterà in braccio chiunque faccia un nuoto sincronizzato sa quanto tremendi siano quei 3 minuti di gara ed è per questo che cerca di darti ogni briciolo di energia in quella che ogni volta è una dannatissima impresa arrivare vivi alla fine dell'esercizio e magari anche dignitosi 2 minuti il coach ci fa riassunto ci visualizza tutto l'esercizio ci dice cosa fare come farlo quando farlo dove farlo e io la guardo più per darle tranquillità che non per prenderne mi fido della mia compagna credo nel lavoro che abbiamo fatto e mi sento pronta ad andare la musica di chi parte prima di noi finisce e ora sono lì ai piedi della pedana e capisco quella frase che mi dicevano da bambino l'importante è partecipare non partecipi quando ti iscrivi alla gara partecipi quando sei lì ed è tutto te stesso per raggiungere il tuo risultato che sia vincere o meno e non importa quale sarà il risultato finale quello che conta è il senso di gratitudine per l'opportunità che hai di provarci la speaker vi chiama e non c'è più tempo allora salgo sulla pedana e inizio a correre e corro mi giro la mia compagna cade e allora la prendo tra le mani e non è un incidente fa proprio parte della coreografia e sono lì con la mia compagna tra le mani il cuore che batte cerca di scappare fuori dal petto a giurarmi una medaglia d'argento e forse addirittura d'oro avevi sei anni quando hai iniziato questo gioco mi dico ora ne hai 21 e ne hai sentite di ogni ti avevano convinto che quello non era al tuo posto ti avevano fatto mollare eppure ora sei lì ti hanno regalato una seconda opportunità nel silenzio del pubblico che sa cosa sta per succedere guardo la giuria prendo tutta l'aria che posso e urlo la coreografia costruita dalla grande atleta che ormai lavora da alcuni anni in Italia come allenatrice Anastasia Armakova la musica di Michele Braga ed è quanto mai attuale il tema perché si intitola Escrima un urlo da Lampedusa ecco l'urlo di Giorgio Minisini e guardate che bella composizione sembra la pietà grazie 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 a tutti